Ciao a tutte e ciao a tutti gli appassionati di teatro e a tutti quanti gli operatori che lavorano per il TSA, il Teatro Stabile d'Abruzzo. Lo sapete, io sono abruzzese e quindi in qualche modo parlo proprio di casa mia. I lavori che dobbiamo fare insieme sono soltanto rimandati e in questo momento in cui i social ci consentono comunque di rimanere in qualche modo legati, a me fa molto piacere condividere con voi non un pezzo recitato da spettacoli che ho fatto o che dovrò fare, ma una piccola riflessione sul teatro che è nelle parole di un grande intellettuale teatrale, ovvero Ripellino, che cita un altro grande del teatro di tutti i tempi che è Jouvet, grandissimo attore e regista francese, su che senso abbia questo lavoro che è effimero, che apparentemente non è niente e che però fa tanto, fa tanto per legare le nostre comunità, per connetterci gli uni agli altri. Ogni spettacolo è un castello di sabbia, un'effimera cattedrale che, col passare degli anni, perde i contorni, tremola, si assottiglia nell'acqua della memoria. E allora perché fare teatro? Perché condannate a spiegare il mistero della loro vita, diceva Jouvet, gli uomini hanno inventato il teatro. A presto!